Eccoci qua, buongiorno a tutti, oggi buongiorno a Bianca e buongiorno a Gie che sono i nostri ospiti. Oggi è il 6 giugno e siamo collegati in una puntata di Fight the Virus che è una puntata interessante perché o almeno ha riscosso tanto interesse nel momento in cui l'abbiamo presentata la community delle nostre famiglie proprio perché va a toccare un tema che ci coinvolge nella vita di tutti i giorni, quindi negli ambienti di vita, nella scuola, nel lavoro e parliamo appunto di tecnologie assistive, parliamo di quello che possono essere i servizi che permettono di abbassare il livello di mismatch della persona con l'ambiente di vita. Quindi oggi ne parliamo con Bianca Friggerio e Gie che lavorano entrambi in Microsoft Italia e mi stavo riguardando il vostro profilo e leggevo in entrambi la descrizione di Accessibility Advocate, Accessibility Evangelist, quindi lascio a voi descriverci che cosa vuol dire, che cosa fa un Advocate, un Evangelist all'interno di un'azienda quando si occupa appunto di accessibilità. Buongiorno a tutti, mi presento velocemente anche se Francesca mi ha già presentato. Io come ruolo appunto in Microsoft mi occupo appunto della pubblica amministrazione e di tutta la parte diciamo tecnologica strategica per la pubblica amministrazione e cerco di portare diciamo tutte le best practice, diciamo le linee guida sui miei clienti ma non solo sui miei clienti per cercare di rendere tutti i contenuti che vengono utilizzati sia internamente sia verso l'esterno da appunto i clienti più accessibili possibile. Cosa significa? Significa che dobbiamo dare la possibilità a tutti e tutte di accedere ai contenuti, di vivere le stesse esperienze. Noi come Microsoft abbiamo tante diciamo tecnologie che permettono proprio di rendere più accessibili i contenuti. Oggi ve ne raccontiamo alcune io e GE. Grazie Bianca. GE, dici di te. Sì, il mio ruolo è customer success manager legato al mondo model work che significa per noi la parte soprattutto di teams e la parte di piattaforma quindi anche implementativa legato ai teams. Quindi io seguo clienti in questo caso enterprise legate al mondo finanziario e mi occupo in pratica del post vendita quindi di far utilizzare nel miglior modo possibile le piattaforme che i clienti hanno già comprato. Quindi parliamo soprattutto di teams e del mondo office con tutte le varie funzionalità legato in questo caso anche al mondo di accessibilità anche se molte volte dico soprattutto al mondo dell'accessibilità perché poi l'accessibilità è il driver per le innovazioni che vengono rilasciate all'interno di teams. Molti non le conosciamo, tanti non lo conoscono soprattutto e molti che utilizziamo tutti i giorni nascono appunto dall'accessibilità. Quindi giusto un esempio lo sfondo sfocato, lo sfondo personalizzato che sto utilizzando io nasce come una funzione di accessibilità. Tutti lo usano come magari per privacy ma in realtà no c'è l'accessibilità. Per non far vedere il delirio che c'è nelle case che sono diventate uffici però è difficile per concentrarsi. Per concentrarsi e poi per leggere bene i labiali no perché se ci sono in background persone che camminano che ti distrae di conseguenza la persona fa molto più fatica a leggere le labiali della persona. Per cui diciamo questo è anche lo scopo principale. Poi come tante funzionalità di accessibilità nasce per questo motivo ma lo usi per n altri scenari. Verissimo. Anche perché la ragione all'inizio è aver disegnato queste funzionalità magari rispondendo a un bisogno particolare di una condizione particolare ma poi rendendole aperte a tutti. Credo che questa sia la caratteristica anche di sviluppo prodotti Microsoft che distingue anche rispetto ad altri prodotti presenti sul mercato. Verissimo. Faccio un piccolo esempio. Anche i sottotitoli in realtà nel senso che io tante volte mi sono trovata a dover lavorare in un bar con tanto caos. Mettendo i sottotitoli è stato tutto più semplice perché potevo leggere quello che appunto i miei colleghi su Teams mi raccontavano e quindi ho potuto appunto ascoltare e seguire la conversazione nonostante appunto ci fosse caos all'interno della stanza. Vero, vero. Io allora comincerei direttamente con Teams a questo punto. Così ci dici tu, G, e anche come renderlo accessibile anche in fase di impostazioni. Io ho impostato i sottotitoli nella mia utenza, però mi confermi anche tu che è qualcosa che ogni persona deve abilitare, no? Sulla... Esattamente. I sottotitoli sono delle funzionalità che ognuno deve abilitare. Ora, in questo momento, le funzionalità di sottitoli funzionano di default con la lingua inglese, ok? Per cui una volta attivato è in inglese, ovviamente trascrive in inglese qualcosa detto in italiano, ovviamente viene fuori qualcosa di illeggibile. Per cui cosa bisogna fare? Bisogna modificare la lingua in primis, metterla in italiano. Poi questa modifica viene fatto per tutti all'interno della riunione, ok? In prossimo futuro daremo la possibilità di scegliere anche la lingua di default è differente rispetto all'inglese, perché anche questo è l'accessibilità e l'inclusione, no? Non tutti parlano l'inglese come lingua madre, per cui ci saranno anche queste funzionalità molto interessanti. I sottotitoli sono in tempo reale, ci sono anche all'interno, ad esempio, di altri prodotti che parleremo dopo. L'alternativa o comunque in parallelo può essere la trascrizione, perché se faccio partire una registrazione adesso, fa partire automaticamente anche la trascrizione. Anche qui bisogna cambiare la lingua originaria, ok? Dall'inglese all'italiano. Dopodiché la differenza è che al termine della riunione o quando si termina la registrazione o la trascrizione, possiamo scaricare i file e leggere successivamente al meeting. Esatto. Poi nella registrazione avremo i sottotitoli in tempo reale, avremo eventualmente la possibilità anche di caricare altri sottotitoli, quindi di tradurre eventualmente i sottotitoli generati nella lingua nativa e per permettere alle persone di scegliere di avere una sottotitoli in un'altra lingua. Questo può essere anche l'apprendimento. Sì, infatti. Ci racconti tu, G, come abilitare queste funzionalità e in generale il mondo di Teams? Sì, vi mostro subito come si abilitano. Allora, vi condivido un secondo il mio schermo. In realtà ce l'abbiamo già abilitato, quindi prima disabilitiamo e poi lo riabilitiamo. Allora, condivido lo schermo. Eccolo qua. Intanto disabilito, ho il suo tempo per caricare. Ok, una volta dentro il meeting, che può essere meeting o anche una chiamata di gruppo, volendo, nelle varie opzioni, qui in questo caso more perché ho il in inglese, troviamo turn on live caption, in italiano abilita sottotitoli in tempo reale. Ci clicco su, in questo caso vedete già in italiano perché l'abbiamo già utilizzato, quindi abbiamo fatto la configurazione, ma la configurazione la facciamo da qui. Spoken language, dall'inglese all'italiano. Come vedete poi ci sono n altre lingue, per cui se vi capita magari di fare magari una lezione, un'altra lingua in inglese, spagnolo, francese, tedesco, quello che volete, abbiamo la possibilità eventualmente di scegliere anche la sua titolatura, in modo da rendere molto più semplice anche le lezioni. Poi quindi questo è uno, l'altro eventualmente è tutta questa parte legata alla transcription, in questo caso vedete che la registrazione è già attiva, quindi di conseguenza la transcription è attiva. Lo mostriamo, anche qui la lingua che ho scelto nella caption e si è tradotta automaticamente anche nella transcription. No, la transcription è carina perché poi posso tornare indietro. Mentre i sottotitoli, sì, sono carini, ma scorrono. Ovviamente poi è legato anche al mondo, un po' anche della privacy, no? Quindi quando si trascrive, quindi si tracciano, quindi anche informazioni private, bisogna poi avvisare, quindi Teams automaticamente con la registrazione all'avvisa, c'è la registrazione e la trascrizione attiva, per cui c'è anche un alert all'interno dei Teams. Mentre per i sottotitoli non ci sono assolutamente problemi, perché poi scorrono e finisce lì. Ok, quindi questo è un po' un, tra virgolette, un problema, nel senso che sono cose da controllare, soprattutto poi anche per registrare le lezioni, perché l'informazione di privacy sono anche le cose che vengono dette dai studenti e comunque da partecipanti all'interno del meeting. Questa è una tematica, diciamo, abbastanza importante. Anche le chat GE vengono trascritte? Le chat sono persistenti, per cui se hai l'account ti rimangono. Infatti molte università, mi sono dimenticato di dire, io ho lavorato poi, molto con le università e anche le scuole nei anni precedenti, soprattutto dalla pandemia, dal 2020, per abilitare le lezioni e avere un po' tutti i sistemi integrati con Teams per appunto il mondo delle lezioni, prima delle lezioni, dopo le lezioni e per poi eventualmente alcune volte anche per gli esami. Per cui, diciamo, sono scenari abbastanza comuni nel mondo scolastico. Molte volte, infatti, le persone utilizzano, anzi in questo caso, gli istituti o le università utilizzano un meeting unico per tutto il trimestre, appunto sfruttando la funzionalità della chat, perché la chat funziona anche quando il meeting non è attivo. Quindi molti lo utilizzano anche per le comunicazioni in tempo reale, un po' come una sorta di WhatsApp per comunicare, quindi sfruttano lo stesso canale di comunicazione, non si perdono niente, condividono file, condividono comunicazione da un unico canale che è molto comodo. Poi le registrazioni finiscono tutte lì, compreso anche le trascrizioni. Quindi è un unico punto dove hai tutte queste informazioni. Vero. Ok, lasciamo a te allora spiegarci le altre funzionalità di Teams, che poi appunto ricordavi tu è utile sia nell'ambiente scuola, educazione, ma soprattutto nel lavoro. Sì, allora io provo in questo difficile compito, nel senso che poi, come dicevamo prima, le funzionalità legate alla cittabilità sono veramente tante, e tante non sappiamo neanche che nascono da accessibilità, appunto lo spunto sfocato. Sfido chiunque di dire, sì, lo sapevo già che nasce per leggere bene i labiali. No, diciamo che quando racconto in giro questa storia, tutti dicono, ah, non ci avevo pensato. In effetti è vero, cioè partendo proprio dai colleghi, poi verso anche le scuole e anche ai miei clienti. Provo con qualcosa. Allora, innanzitutto ci sono delle funzionalità legate al meeting molto utile. Non so se tutti sanno, ma io posso condividere come contenuto anche direttamente un PowerPoint all'interno di Teams. Di solito cosa facciamo? Per comodità anche condivido lo schermo, condivido un'app, ma ho la possibilità di condividere direttamente un file PowerPoint che sta sul mio cloud. Quindi sta sul mio OneDrive, sta nel mio team, sta sul mio SharePoint, quindi dove voglio, basta che sia caricato, oppure lo carico, il Teams meeting che lo fa, lo carica sul cloud. Cosa succede con questa modalità? La differenza principale è che questo file viene trasmesso direttamente dalla cloud, quindi direttamente da Teams in questo caso. Abbiamo una cosa molto interessante che funziona nel screen reader su queste presentazioni. Spiegaci che cosa è lo screen reader. Esatto, lo screen reader è lo strumento assistivo che viene utilizzato dalle persone ipovedenti o proprio cieche per leggere il contenuto di uno schermo, perché altrimenti ovviamente non hanno modo di comprendere di cosa viene messo all'interno dello schermo. e cosa stanno, dove stiamo in questo momento della presentazione. Quindi può essere utilizzato con, in pratica, un'app che descrive quello che c'è nello schermo e al contempo eventualmente avere anche una tastiera, un hardware esterno Braille che fa vedere in Braille il contenuto. Quindi possono essere duplici. Quindi un screen reader deve poter leggere il contenuto, quindi l'applicativo deve essere accessibile per lo screen reader in modo che tutto quello che c'è all'interno dello schermo venga letta. E condividendo lo schermo normale ovviamente sono immagini, video, e nessun screen reader è in grado di leggere. Oddio, nessuno, magari qualcuno di innovativo, magari c'è anche, ma quelli più utilizzati generalmente dalle persone con disabilità non supportano ovviamente la condivisione dello schermo puro. Invece, se condividi il PowerPoint direttamente, è un formato differente. Teams è pensato, in questo caso, per rendere questo formato appunto accessibile, quindi accessibile anche ai screen reader. Questa è una funzionalità ovviamente per le disabilità visive, ma ci sono anche altre funzionalità che possono essere un po' utili a tutti. Allora, la disabilità innanzitutto può essere permanente, temporanea o anche situazionale. L'esempio che mi piace di più è situazionale, perché situazionale, perché dipende dalla situazione. è il mismatch che tu hai con il contesto. In questo caso, la lingua eventualmente è un mismatch, quindi per me anche la lingua eventualmente è una disabilità. Quindi, se non riesco a comprendere nelle slide cosa viene, diciamo, descritta in questo caso, quindi un'altra lingua, per me quello è una disabilità. Non è accessibile quel contenuto. Esatto, esatto. Se il contenuto non è accessibile, vuol dire che c'è un mismatch, quindi una disabilità in questo caso situazionale, perché in questo momento o comunque nella tua vita in generale magari questa lingua non lo comprendi, non lo stai studiando, eccetera. Quindi una delle funzionalità molto utili è anche di tradurre automaticamente le slide. È molto carina come cosa, però magari a mostrarvelo. Facci vedere, che così almeno ci rendiamo conto. Perché oggettivamente oggi la condivisione di slide o comunque di immagini visuali fa parte un po' anche del nostro modo di operare e di fruire dei contenuti. Penso a tutti i canali social dove appunto condividiamo per principio un'immagine e poi andiamo al testo, quindi sapere che queste immagini possono essere descritte e renderle quindi accessibili alle app che utilizzano persone con una disabilità visiva è un vantaggio. Allora, provo a mostrarlo. Ho un PowerPoint qui. Vediamo un attimo se si riesce a... Sì, perché allora diciamo che condividere e poi mostrare il mio schermo può essere abbastanza difficile in questo momento, ma provo a fare un po' questo. Allora, vedete che in questo momento c'è una slide. In questo caso questa modalità di presentazione che si chiama Presenter Live, ok, quindi presentazione direttamente da PowerPoint, io posso eventualmente scegliere il suo titolo. Nella registrazione non verrà, per cui quello che faccio è fare uno screenshot, mettere su Paint e poi vi condivido il mio schermo per farvi vedere in modalità abbastanza basica cosa sto vedendo e cosa posso fare. Allora, innanzitutto vi faccio questa condivisione. Allora, un attimo, un secondo che... Perché è una situazione abbastanza anomala questa in cui siamo collegati in tre con slide, con... Ditemi se riuscite a vedere bene, io lo vedo leggermente a scatti, ma se vedete qui ho nelle opzioni della presentazione la possibilità di fare Translate. Ok? Translate, quindi posso scegliere una lingua per tradurre il contenuto. Un'altra cosa che posso fare qui è il... di vedere anche di contrasto. Queste sono configurazioni che hanno tutti gli utenti, quindi non solo chi sta presentando. Quindi io che sto vedendo, diciamo, la slide posso aumentare il contrasto oppure tradurla. Sì. Poi un'altra cosa molto carina, molto spesso per l'accessibilità si utilizzano i shortcut. Ok? Tu puoi eventualmente anche ingrandire il contenuto se non riesci a leggere bene. Quindi control, scroll, control più, control meno per fare lo zoom dei singoli magari elementi, no? Che magari uno scritto più piccolo, ci sono scritte un po' più piccole, si fa fatica un po' a leggere. E queste shortcut, queste... come si chiamano in italiano? Queste... Vabbè, queste abbinate... Combinazioni di tasti. Eh, combinazioni di tasti sono valide per... anche per... su diversi sistemi operativi, cioè coincide sempre l'abbinata control più quel tasto lì o... Sì, in genere sono abbastanza... Sì, sono abbastanza in comune. Ovviamente da Windows rispetto a Mac e Linux sono leggermente differenti. In ogni caso c'è una configurazione, una configurazione, una pagina, in realtà nell'applicativo stesso che ti fa vedere un po' tutti questi shortcut. Quindi se si va nelle opzioni dentro i Teams, subito sotto lo zoom e i settings c'è la funzionalità di shortcut. Anzi, ve lo faccio vedere. Sì. Questo è sicuramente molto molto utile. Un secondo... Eccolo qua. Quindi se vedete vicino al profilo in questo caso anche l'organizzazione ho i tre punti. Sì. Sotto, vicino alle configurazioni, al zoom, eccetera, c'è il... la pagina dei shortcut. Se ci clicco su mi verrà mostrato l'elenco di tutte le shortcut. Fantastico. Ok, poi come chiedevi tu Francesca, qui c'è anche una pagina per shortcut su tutte le piattaforme, quindi anche su altri sistemi operativi che sono magari leggermente differenti perché appunto la configurazione del tastiera è differente. Quindi qui vediamo un po' tutti i vari shortcut. Ok. Ovviamente si può sfruttare le funzionalità native anche di Windows, no, per magari generare altre tipologie di shortcut, ad esempio con stick keys che è la funzionalità per ridurre le combinazioni di tasto avendo poi magari l'utilizzo dello shortcut tramite una sequenza di tasti ma tasto unico. su questo ho capito poco. Ogni tanto ci si ritrova a dover schiacciare tantissimi tasti uno dopo l'altro per abilitare delle feature oppure qualunque azione e quindi lo sticky key ti permette di cliccarle sequenzialmente con lo stesso dito, insomma con la stessa sequenza senza dover tenerle schiacciate tutte insieme. Sticky key sticky keys è forse la prima funzionalità di accessibilità che abbiamo introdotto ormai parliamo di primi windows in pratica in italiano dovrebbe chiamarsi tasti permanenti anche qui non è molto comprensibile ma il concetto è premo cinque volte un tasto e abilita una funzionalità al posto di usare il control shift e una tastiera quindi tre quattro tasti in contemporaneo ovviamente con magari una disabilità motore ma neanche e comunque in ogni caso è un'operazione che può essere complessa a tanti è vero ci pensavo anche in funzione del fatto che noi consideriamo spesso appunto l'accessibilità nei confronti degli utenti per attività che loro fanno però anche nell'ambito del lavoro ci sono molte persone molti sviluppatori che hanno disabilità che magari hanno bisogno invece di funzionalità più avanzate quindi può essere utile anche per loro sì assolutamente io Stikis diciamo storicamente nella mia vita personale l'ho scoperto un po' da bambino nel senso che da bambini io ricordo che quando studiavo tra virgolette informatica ma in realtà più che studia era un interesse personale facevo ricordo che facevo molto fatica a premere tutti questi convenzioni dei tassi ci sono molte volte che ne hai anche quattro con il dittino un po' più piccolo e fai molto fatica a trovarli e poi da lì ho scoperto un po' penso anche per i nostri beneficiari finali che sono tutte persone bambini con una disabilità ai paradisi cerebrali infantili dove spesso utilizzano solo uno degli arti superiori per appunto muoversi sulla tastiera quindi assolutamente utile va bene ti lasciamo andare avanti come vedete siamo usciti un po' anche dal perimetro di teams allora su teams vorrei raccontare altre due tre cose interessanti allora uno se avete visto prima nella schermata dove c'era la presentazione una delle funzionalità che mi ho introdotto da poco è vicino ai tre puntini che c'erano prima si chiama il presenter coach è una funzionalità che al momento è solo in inglese ma ovviamente arriverà anche in italiano che aiuta il presentatore ad avere dei feedback di come sta presentando cosa vuol dire come sta presentando se ad esempio stai seguendo un ritmo costante la velocità della parlata della parlata quindi quante parole al minuto abbiamo poi il grafico per vedere un po' se stai parlando in maniera con una velocità costante hai la possibilità di far analizzare anche quello che stai dicendo quindi se utilizzi troppe magari intercalari ti viene sottolineato perché molto spesso si fa in tutte le lingue se stai leggendo troppo le slide quindi stai leggendo letteralmente le slide o se non usi magari parole inclusive quindi ci sono tutte queste funzionalità che fanno un po' vedere e aiuta la persona a presentare meglio quindi parlare meglio anche durante una presentazione questa è una funzionalità che riusci a farcelo vedere questo anche qui è abbastanza complicato ma ve lo mostro in un'altra modalità perché questa funzionalità anche rispetto al concetto dei bias che abbiamo anche nell'utilizzare alcune parole che magari noi pensiamo siano esatto in italiano ad esempio tanti ancora utilizzano diverse abilità sapendo che invece il linguaggio più corretto è parlare di persone con disabilità o persone disabili a seconda delle diverse condizioni e dell'utilizzo appunto del linguaggio person first o rappresentazione della disabilità quindi su questo allora diciamo che come come prima è abbastanza complicato al momento diciamo mostrare perché bisogna avere una modalità non di condivisione ma una modalità direttamente all'interno della riunione ma questa funzionalità nasce da una funzionalità di powerpoint di powerpoint live quindi parliamo in questo caso del powerpoint online ed è un'operazione che può essere fatto anche non durante il meeting quindi per preparare delle presentazioni io lo uso spesso per prima delle presentazioni di alcune presentazioni magari più importanti per vedere un po' sia le tempistiche ma anche cosa dico durante la riunione in questo caso come dicevamo prima è in inglese datti un secondo che attivo un attimo quindi un vero e proprio coach qualcuno che ti dice stai andando stai facendo bene oppure sì in questo caso ha anche feedback in tempo reale cioè puoi avere anche il feedback in tempo reale quindi in tempo reale magari il coach mi dice stai andando troppo veloce ed è visibile solo a te sì in questa modalità esatto solo 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 a me e se lo faccio ovviamente come rehearse come aspetta il termine italiano è prova esatto lo vedo ovviamente lo vedo solo io io posso avere la scelta di vederlo in tempo reale quindi vederlo durante quindi avere un pop up che mi dice stai andando troppo veloce troppo lento se le diano troppo le slide eccetera oppure di vedere al termine del meeting anzi del meeting della prova con un report un attimo in un secondo che provo ad abilitarlo anzi ad aprire una presentazione e poi vediamo un attimo insieme sto aprendo un file abbastanza grande quindi ci metterò magari qualche secondo intanto che carico la prova all'interno di powerpoint poi ci sono diverse funzionalità che sono abbastanza equiparabili all'interno di teams perché alla fine teams è una riunione online mentre powerpoint può essere utilizzato sia dentro teams quindi insieme a teams che eventualmente anche un ambiente fisico quindi durante un evento posso far generare il titolo in automatico e una particolarità di powerpoint è che eventualmente tu puoi avere anche la traduzione quindi tu puoi parlare una lingua e mostrare un'altra oppure permettere alle persone di scegliere un'altra lingua esatto la traduzione è real time e automatica quindi io parlo in italiano ma vedo i sottotitoli in inglese ad esempio questo ve lo ve lo faccio vedere tra poco ok ora che ho preso un attimo il tempo per caricare il powerpoint vi faccio vedere queste sono un po' le nostre alcune anzi questa è la slide le slide principali nostre interne per raccontare l'accessibilità lo uso come esempio abbiamo ad esempio alcune funzionalità di accessibilità ma all'interno di slideshow ho diverse funzionalità legate quindi ai sottotitoli quindi qui live present e qui l'impostazione dei sottotitoli dove mettere i sottotitoli di scegliere la lingua parlata in questo caso teniamo pure in inglese perché poi adesso il coach ve lo faccio vedere in inglese perché non funziona in italiano e poi scegliere eventualmente una lingua di traduzione in questo caso vedete che live present che una una delle funzionalità per presentare i sottotitoli era in grigetto perché ci mette un attimo a caricare quindi se aprite il powerpoint online e non le vedete cliccabili le opzioni questione di secondi come vedete quindi adesso live present è attivo qui posso scegliere anche a chi ok abilitare live present perché live present ti dà la possibilità di ai partecipanti di scegliere anche un'altra lingua e poi qui ho il rehearse with coach tra le configurazioni in questo caso vedete che io voglio la velocità pace le parole filler quindi intercalari pitch quindi come sto parlando quindi anche il tipo di linguaggio che sto utilizzando anche adesso la pronuncia qui sono i vari feedback poi ho anche filtri su diverse tipologie di contenuti quindi di lettura dei pitch che ho quindi originalità in questo caso ovviamente parliamo di leggere o non leggere le slide parole inclusive ripetere troppo le stesse le stesse frasi le stesse parole ok poi volendo questa è una funzionata veramente nuova anche il linguaggio del corpo abilitiamo quindi questo quindi lo proviamo adesso ah vabbè non lo proviamo quindi adesso lo vediamo ok lo facciamo partire quindi linguaggio del corpo abbiamo messo cosa succede adesso mi carica la presentazione vediamo adesso appena carica e al contempo carica anche il coach quindi andando a presentare adesso passo un attimo in in inglese vedete in alto ok adesso vuole usare anche la mia camera datemi giusto un secondo ok 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 eccolo qua vedete qui che adesso ha caricato il il reverse ok quindi questo è il coach in questo caso vedete che io posso avere anche il feedback in tempo reale e una volta che sono pronto posso fare il start adesso forse ho un po' di esatto ho un po' di difficoltà perché dovevo togliere il body language perché essendo nel meeting ovviamente il web non può funzionare qui esatto quindi datemi un secondo che tolgo il body language in questo caso e facciamo partire solo per la parte vocale perché se non è il meeting non mi fa utilizzare anche quello esatto fa vediamo sì devo ricaricare un secondo importantissimo anche la parte di pronuncia secondo me nel senso che a me servirebbe tantissimo quando si ripete appunto in inglese oppure in un'altra lingua o è vero che poi utilizzando una lingua che non è la lingua madre spesso si tende a utilizzare lo stesso setto di vocaboli quindi gli errori si si moltiplicano magari sì poi lo vedo molto utile poi magari per i studenti che stanno imparando anche come presentare come parlare in pubblico eccetera può essere sicuramente molto comodo ok vedete qui il pannellino adesso è cliccabile faccio partire io voglio il feedback in tempo reale per cui adesso passo un attimo prendo una slide e poi passo in inglese in the past you had to adapt to the world in the future the world will adapt to you dopo adesso vediamo un po' i vari feedback ok accessibility is cloud consumption AI vedete qui il ritmo è abbastanza buono qui posso disabilitare sottotitoli esatto quindi incoraggiamenti anche no ok continuiamo un attimo questa prova ovviamente non è super efficace ma come vedete qui uso troppe parole magari filler ecco questo è quello che faccio spesso ecco ok vedete questi sono un po' i vari feedback ok giusto per non fare magari qualcosa di completo lo fermo e poi mi fornisce un report mi fa vedere un po' le parole che sto utilizzando adesso in questo caso non è abbastanza affidabile come prova perché c'è un misto di inglese italiano ma ti fa vedere un po' anche il ritmo un secondo che si verrà utilissimo per gli studenti anche adesso vediamo che comunque l'utilizzo di tecnologie anche nell'ambiente classe sta diventando parte del curriculum quindi non è più solo una materia a parte ma è come apprendere una serie di nozioni anche attraverso delle tecnologie questo è il report quindi questo è un po' il report qui è utile per vedere un po' cosa viene analizzato più che il risultato della nostra prova in questo caso la velocità quante parole al minuto vediamo anche il ritmo pace ok quindi nel nel tempo le parole filler in questo caso che viene viene detto di continuo parole ripetitive in questo caso non c'erano le parole poi la parte anche di inclusività la pronuncia qua si parte ovviamente in questo caso con la pronuncia classica dell'inglese americano l'originalità quindi non leggere troppe le slide anche se più o meno ho letto ma sono parole in questo caso non sono frasi e poi è un po' anche la tonalità no è troppo monotona come tono o c'è una variazione di tono per mostrare anche un po' magari più di sentimento l'unica cosa che manca qui è il body ecco il body è vero senti invece sulla parte inclusiveness quando ti dice learn more puoi approfondire e ti dà anche una sorta di guida quali sono i vocaboli sì una guida di diciamo di come parlare in maniera inclusiva quindi come dicevi anche tu Francesca il linguaggio del people first che viene utilizzato anche all'interno di Microsoft come standard può essere uno di questi quindi queste sono le varie aree per l'inclusività quindi disabilità età gender razza orientamento sessuale quindi sono analizza quindi queste tipologie di parole di frasi che vengono messe all'interno dei discorsi per fare anche un'analisi quindi qui sono un po' le varie best practices come ad esempio una raccomandazione people first come si dice quindi per le disabilità per l'età ci sono varie raccomandazioni così come per tutte le altre bias in questo caso viene chiamato quindi anche la traduzione potrebbe essere un un formamentis non so un ritaggio magari culturale per le parole un pregiudizio esatto quindi magari sono cose che non vengono dette magari con cattiveria o comunque vengono dette solo con poca attenzione perché magari si è abituati a dire in quella maniera se siamo sempre abituati a sentirla anche in quella maniera quindi queste sono cose molto utili un flash anche sul fatto che Microsoft tende a fare anche molta formazione su quello che può essere il linguaggio inclusivo esiste un'area proprio del sito che è dedicata a contenuti su inclusive design su sviluppo prodotti su linguaggi ci vuoi dire qualcosa anche di questo? sì noi abbiamo in realtà tante risorse legate al mondo dell'accessibilità abbiamo innanzitutto il portale di accessibilità Microsoft quindi si accede su microsoft.com slash accessibility in questo caso lo vedrete già in italiano perché ovviamente l'accessibilità anche linguistica quindi è localizzato in tante in tante lingue qui vengono elencate tutte le funzionalità legate alle funzionalità legate all'accessibilità suddivise per tipologie di disabilità quindi vista udito neurodiversità apprendimento mobilità e anche salute mentale in questo caso poi ci sono c'è una sezione con anche le storie quindi vi prende anche spunto di come vengono utilizzate queste funzionalità da persone o da organizzazioni e poi la sezione un po' più specifica legata ai vari prodotti quindi parliamo di windows di office 65 di prodotti anche consumer come skype xbox anche edge in questo caso e poi vengono messi alcuni articoli riferimenti eccetera abbiamo poi diversi strumenti molto utili in questo caso legate al mondo un po' più di learning quindi se andiamo su youtube andiamo su msft microsoft enable con diversi webinar diversi contenuti legate al mondo dell'accessibilità adesso non andiamo troppo in fondo no no assolutamente ci piaccia soprattutto qui di supporto ricordare questo come repository che poi lo diciamo è anche un un tipo di servizio che offrono altri operatori del mondo della tecnologia per cui notoriamente se andate a visitare apple.com slash accessibility o facebook o altri fornitori di servizi in questo mondo tutti fanno convergere qui tutte quelle che sono le informazioni fondamentali di approfondimento un'ultima cosa G e poi ti lascio proseguire con la parte di Teams esiste anche una certificazione un corso che è aperto a tutti o è solo per i dipendenti Microsoft per mettersi alla prova certificare le proprie competenze anche in questo sì allora noi internamente abbiamo i nostri badge di accessibilità i nostri percorsi e di corsi obbligatori ma da qualche anno abbiamo messo a disposizione un portale che si chiama Microsoft Learn che sono i percorsi di studio legati sia alla tecnologia ma in realtà ora anche meno legati alla tecnologia legato in questo caso al mondo dell'accessibilità dove abbiamo i percorsi di studio abbiamo eventualmente la possibilità di avere anche dei vari certificati legati al mondo Microsoft Learn in questo caso per l'accessibilità c'è proprio un percorso è interessante parlare anche di questo perché tante persone anche nella nostra comunità spesso hanno voglia di trovare un impiego lavorare quindi trovare un'occupazione in questo stesso mondo quindi il ruolo di disability manager piuttosto che un ruolo di interfaccia all'interno dell'azienda con le persone quindi delle risorse umane spesso per loro può essere interessante capire quali sono i percorsi di formazione e questo è un percorso di formazione gratuito ricordiamolo sì Microsoft Learn è un portale gratuito per cui tutti i percorsi tutti i materiali sono totalmente gratuiti esattamente poi la cosa interessante è che qua ci sono anche diverse tipologie diciamo di audience in questo caso ma potrebbe essere l'utilizzo in questo caso stiamo già percorrendo il corso fondamental ok quindi sui fondamentali dell'accessibilità legato sia a un discorso generale cos'è l'accessibilità le forme del linguaggio che tipo di comportamento deve avere quindi come dicevamo è anche un po' al di fuori della tecnologia in questo caso per arrivare anche dal punto di vista un po' più tecnologico sia come utilizzatori quindi come essere accessibili con tecnologie quindi con strumenti digitali oppure qualcosa legato in maniera anche più approfondita in questo caso a eventualmente mondo più da sviluppatori perché nel mondo del lavoro si cerca molto ad oggi ruoli legate all'accessibilità come sviluppatori di portali accessibili ma vedo tanti anche di tester per comprendere se le funzionalità sono effettivamente accessibili quindi validare o designer anche no? o designer sì disegnare in maniera accessibile usare i contrasti colori in maniera diciamo comprensibile leggibile non usare font troppo magari troppo articolate eccetera eccetera ok quindi un po' questo mondo questo è un portale molto molto comodo non solo per accessibilità ma un po' per tutto poi abbiamo anche diversi corsi qui e là una cosa che volevo mostrare è che sono dei materiali molto comodi che abbiamo fatto insieme a Bianca e al team in proprio il mese scorso di pillole di accessibilità quindi cosa abbiamo fatto per il Global Accessibility Awareness Day che era il 19 maggio quest'anno abbiamo voluto rilasciare un po' di video pillole che porteremo anche davanti nel tempo per raccontare in maniera molto semplice alcune di queste funzionalità questo è già sui nostri canali social c'è una playlist su YouTube c'è un articolo all'interno del nostro blog che elenca e mostra le nostre video pillole in questo caso ne abbiamo fatte 12 quindi parliamo di funzionalità legate al mondo Windows in questo caso alcune su Outlook alcune legate a Teams e Bianca ci aveva fatto Accessibility Checker se non sbaglio esatto che adesso vi racconto tra l'altro quindi qui abbiamo descritto un po' quindi quali sono i formati di questi video sono formati di micropillole quindi raccontiamo la funzionalità facciamo vedere la funzionalità ed descriviamo un po' quali sono i scenari di utilizzo alcuni ad esempio possono essere legati un po' più al business quindi Immersive Reader come vedete nello schermo l'Accessibility Checker in Word altri che possono essere anche più legati alla vita quotidiana perché qua abbiamo anche Seeing AI che è un applicativo all'interno di dispositivi Apple che descrive l'ambiente circostante per le persone ipovedenti o comunque con disabilità legate alla vista si accede a Seeing AI ad esempio a trarsi un'app dedicata a questo punto uno scarica l'app è un'app nello store di Apple in questo caso e poi lo si utilizza senza nessun sign in e altro si scelgono poi le diverse funzionalità che si vogliono attivare quindi ad esempio una di queste descrivere magari l'oggetto descrivere le persone descrivere le distanze descrivere anche luminosità eventualmente quindi io ad esempio avvicino la fotocamera vicino magari una fonte di luce c'è viene mostrato un suono con una certa intensità una certa frequenza se vado magari sul nero sulla parte più scura si abbassa questa frequenza per le funzionalità ad esempio descrittive inquadra magari una persona mi dice quanto dista e mi descrive appunto la persona quindi mi dice che più o meno quantità ha come è vestita se porta gli occhiali e queste cose oppure descrive anche gli oggetti inquadra un QR code inquadra una barcode mi descrive anche un prodotto ad esempio io trovo utilissime la lettura delle etichette dei prodotti che solitamente sono scritte in caratteri piccolissimi con contrasti particolari magari anche dovuto anche il branding esatto anche questo GE è un servizio gratuito cioè queste app sono gratuite si tutte le funzionalità che stiamo descrivendo si tutte ma in realtà legate all'accessibilità un po' tutte sono tutte totalmente gratuite nel senso che per noi le funzionalità di accessibilità deve essere diciamo una norma del prodotto non sono un veicolo di vendita quindi le funzionalità che stiamo dicendo è lo dicevamo anche prima nell'ambiente scolastico esistono delle licenze di Microsoft che vengono date gratuitamente alle scuole a tutti il mondo dei servizi all'educazione è così? esatto noi abbiamo delle noi abbiamo diverse tipologie di licenze per il mondo Office 365 quindi parliamo delle licenze business licenze enterprise e poi le licenze per il mondo educativo quindi noi chiamiamo edu appunto e per le organizzazioni non profit per le ultime due le licenze basi quindi con le funzionalità basiche sono totalmente gratuite quindi ogni scuola può richiederlo c'è un portale apposito che viene poi che si passa un processo di qualche giorno intorno alla settimana dopo la validazione dell'istituto con tutte le informazioni del caso vengono fornite l'accesso al sistema e le licenze relative quindi tutti gli istituti scolastici già durante la pandemia che volevano utilizzare Teams o altri strumenti legati al mondo Office per la didattica a distanza ma in realtà può essere è nato molto prima di questo tipo di esigenze e questo tipo di licenze si poteva tranquillamente richiedere quindi all'interno di questi pacchetti abbiamo tutte le funzionalità abbastanza standard del mondo Teams più tutte le licenze legate agli applicativi Office quindi allora ricordiamolo che tutto quello che abbiamo visto oggi su Teams ma quello che vedremo adesso fra poco anche con Bianca su altri applicativi è a disposizione delle scuole per cui se il vostro figlio dovesse appunto frequentare una scuola si può richiedere alla scuola di fare questa richiesta di tecnologie che poi possono essere installate anche sul appunto i device che usa il bambino o il ragazzo in classe poi questi riferimenti sono anche sul sito del ministero dell'istruzione in ogni caso che vengono comunque messe messe tra gli applicativi suggeriti esatto ricordiamo anche che esiste una legge che è la legge 170 del 2010 che fa sì che vengano riconosciuti i diritti di tutti gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento quindi il DSA l'acronimo e che permette appunto di accedere a strumenti compensativi o dispensativi che davvero fanno la dislessia disgrafia discalculia o altri disturbi perché gli permettono di abbattere quello che abbiamo detto era il mismatch iniziale della persona nei confronti dell'ambiente di vita Gie io ti ho interrotto tipo 200 volte oggi ti ho fatto fare dei focus specifici quindi il presenter coach mi avrebbe sicuramente mandato degli Alex però ti lascio concludere questa parte su su Teams così poi passiamo la parola a Bianca sì giusto le ultime due cose una cosa una funzionalità molto utile che poi lascio in realtà spiegare meglio Bianca è l'immersive reader cos'è immersive reader immersive reader inizialmente era stato chiamato strumento di apprendimento perché nasce da un nostro hackathon interno di un applicativo legato al mondo OneNote che aiutava ai studenti in questo caso ai ragazzi a utilizzare a leggere meglio quindi a utilizzare le funzionalità legate al testo quindi a buone funzionalità di text to speech cambiamento di contrasto analisi logica grammaticale del testo traduzione del testo eccetera dopo la vincita diciamo di questo hackathon se non ricordo mai nel 2015 una cosa del genere questa funzionalità è diventata talmente interessante immersiva che è stata inclusa in tutti i nostri prodotti quindi nasce come un add-on di OneNote piano piano è diventato una funzionalità di default di OneNote e poi di tutto il mondo Office quindi Word PowerPoint Outlook ma anche legato ovviamente ai Teams quindi tutti i testi tutte le scritte che vengono inviate via chat via tramite canali all'interno dei Teams possono sfruttare questa funzionalità è stato incluso poi all'interno anche di prodotti consumer quindi parliamo anche in questo caso di Edge ok quindi Edge inattivamente è in grado di portare un testo in modalità accessibile per la lettura poi infatti con questo cambiamento il nome della funzionalità dal strumento di apprendimento è diventato lettura immersiva e poi questo servizio l'abbiamo messo a disposizione anche dei nostri clienti è diventato un servizio all'interno di Azure ma su questo lascio fra poco la parola bianca per descrivere e mostrarvi un po' di cosa consiste in maniera un po' più chiara l'ultima cosa che vorrei parlarvi è un po' il Read in Progress che magari è una funzionalità unica solo per gli ambienti education come dicevamo ci sono versioni diverse di Office 6.5 soprattutto di Teams all'interno di Teams ci sono diverse funzionalità solo per le scuole ad esempio ogni team può essere una classe all'interno c'è un OneNote per prendere appunti per condividere informazioni anche singolarmente a ognuno dei studenti poi c'è una funzionalità legata anche ai compiti che in inglese si chiama Assignment che ha diverse funzionalità sia per assegnare effettivamente compiti ai studenti quindi fornire documenti fornire materiali anche multimediali e i studenti sono in grado quindi di ricepirli anche singolarmente quindi il compito può essere non assegnato a tutta la classe ma solo addettivamente a persone per poi produrre il compito quindi di mandare il compito mandare file prodotto mandare la presentazione mandare la ricerca e poi eventualmente per tutta la parte anche di votazioni ok quindi posso anche assegnare direttamente i voti all'interno di quest'app poi una delle funzionalità che abbiamo introdotto all'interno del di quest'app è il quindi Read in Progress è un applicativo che ci permette di aiutare e assegnare compiti legati alla lettura quindi anche di tracciare come legge la persona nel tempo quindi posso avere la registrazione della lettura vedere se vengono pronunciate bene i contenuti un po' molto simile al al Rears al Presenter Coach che vedevamo prima quindi se ci sono troppe ripetizioni se si corregge troppo se stessi se si omette delle parole si inserisce delle parole in più quindi fanno queste tipologie di analisi e permette quindi di fare il tracciamento della lettura quindi lo studente cosa fa? prende legge il testo e viene analizzato il registrato e poi questo diventa ancora storico anche in italiano sì? non ancora purtroppo diciamo ancora in inglese per cui solo per testi in inglese al momento ok quindi aspettiamo le prossime i prossimi rilasci che vedo comunque sono anche abbastanza veloci no? mi è capitato di vedere altre volte l'evoluzione dei vostri prodotti che inizialmente erano disponibili in lingua inglese poi dopo poco in tutte le altre lingue e questo fa la differenza soprattutto se parliamo di dislessia ad esempio appunto capacità di interpretare una lingua più o meno trasparente ecco sì 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 diciamo che c'è molta attenzione anche nel mondo education infatti tutte queste funzionalità sono esclusive del mondo education come come alcune altre funzionalità allora giusto per chiudere il discorso teams volevo darvi un'anticipazione su una funzionalità che sta per nascere anzi sta per nascere sta per essere rilasciato più che per nascere che completa un po' tutta la parte di traduzione di accessibilità linguistica è la funzionalità che si chiama live interpretation è una funzionalità che permette agli interpreti di entrare all'interno delle riunioni e creare dei stream audio quindi dei canali audio in altre lingue differenti quindi io potrei avere un evento avere diverse tracce audio quindi magari l'evento viene fatto in inglese voglio avere anche tracce audio in italiano e altre lingue posso farlo tramite meeting quindi configurando questa funzionalità posso far entrare interpreti far tradurre in temporale gli interpreti e permettere agli utenti di scegliere la lingua parlata e avere diverse tracce audio è una funzionalità molto interessante su questa che mi sembra molto interessante accesso a un canale separato anche per l'ISA SL quindi lingua dei segni quello sì si può già fare in realtà in due modi lo possiamo mettere i video in cosiddetto spotlight mettere in evidenza in modo che sia sottolineato che parla che segna in lingua dei segni che ha la sua immagine in evidenza in evidenza quindi io posso scegliere chi mettere in evidenza e poi un'altra funzionalità che sta per arrivare si chiama stage mode che permette di mettere non in evidenza ma mostrare solo alcune persone quindi decido in toto chi viene mostrato in video ci sono esempio mercoledì scorso abbiamo fatto un evento interno con una persona che in realtà fa parte di un'associazione anche un nostro cliente sordo muto ok con il suo interprete e noi abbiamo messo in evidenza loro due più le altre persone che intervenivano in evidenza in modo che loro potevano anche comunicarsi direttamente in video anche quando non parlavano quindi avevano il loro canale dedicato in realtà condiviso a tutti solo che mettono in evidenza ovviamente loro ci hanno proprio chiesto di mettersi in evidenza così potevano sia comunicare che eventualmente far tradurre in list quello che veniva detto dal moderatore dal presentatore e dagli altri speaker ottimo va bene quindi ci hai parlato di un mondo in completa evoluzione nel senso che ogni volta che ci risentiamo c'è sempre un pezzo in più Gia e noi ti ringraziamo per questa prima parte lasceremo spazio a Bianca che ci parla invece di tutto il resto dei prodotti Microsoft tutto il resto allora partirò da PowerPoint poi vi farò vedere Word Outlook e Edge quindi un sito web inizio a condividere il mio secondo schermo vi faccio vedere tutta la parte di PowerPoint inizio con diciamo la funzionalità che io personalmente utilizzo di più ovvero il verifica accessibilità che noi chiamiamo anche accessibility checker in inglese al momento io ho il mio PowerPoint in italiano quindi lo troveremo come verifica accessibilità aprite una qualunque diciamo presentazione qualunque appunto documento immagine che potete aprire appunto su PowerPoint e potete cercare sulla barra di ricerca verifica accessibilità a me viene subito fuori perché lo utilizzo tantissime volte cliccando su verifica accessibilità quello che noi possiamo fare è permettere a un appunto un servizio di verificare se il nostro contenuto è accessibile o no cosa significa significa che il servizio segue una serie di regole possono essere poi poco stringenti più stringenti il nostro accessibility checker quindi verifica accessibilità segue le linee guida WCAG doppia A esistono anche quelle singola o tripla A seconda poi della regola se è più stringente o meno stringente in questo caso stabbiamo noi Bianca cosa? stabbiamo noi il livello di no al momento appunto su PowerPoint o su tutti in realtà tutti i nostri servizi office abbiamo la doppia A quindi verifica se è accessibile seguendo la linea guida doppia A all'interno appunto delle presentazioni è sempre importante io dico sempre renderle accessibili perché? perché le presentazioni fanno sempre il giro del mondo nel senso che si inviano tramite Outlook tramite Teams non sappiamo mai chi abbiamo dall'altra parte nel senso che magari sappiamo gli interlocutori principali perché lo inviamo a due persone su Outlook su qualunque poi servizio mail però alla fine non sappiamo a chi poi viene inviata quindi è sempre importante avere la prima fase diciamo la prima presentazione accessibile principalmente quando io cerco di rendere accessibile un'applicazione di solito io vi consiglio di renderla accessibile fin dall'inizio cioè quando la create quando create la primissima slide iniziate a renderla accessibile perché capita mi è capitato di creare per esempio presentazioni di 60 pagine e poi dopo rendermi conto che non le avevo rese accessibili quindi poi si perde tantissimo tempo chiaramente le cose importantissime sono due a mio parere le principali sono il contrasto in questo caso vediamo che il nome del relatore è praticamente illegibile sia a noi ma a qualunque altra persona quindi è importantissimo rendere diciamo il contenuto accessibile in termini proprio di contrasto quindi cambiare il colore in modo tale che sia appunto leggibile proprio in termini di colore oltre a questo nelle presentazioni ovviamente noi mettiamo immagini in ogni singola presentazione in ogni singola slide ed è importante che l'immagine non abbia un testo all'interno dell'immagine un testo alternativo quello che si chiama o alternative text o testo alternativo in italiano o alt text lo troviamo anche esattamente non può leggere cosa c'è all'interno dell'immagine e gli screen reader come diceva anche Jay prima sono innovativi ma fino a un certo punto non riescono proprio a riconoscere in real time il contenuto di un'immagine quindi è importante aggiungere una descrizione all'interno appunto della nostra immagine come si fa per esempio in Word ma la stessa cosa è in PowerPoint come in OneNote in tutti i nostri appunto servizi di Office 365 basta cliccare sul appunto tasto destro modifica testo alternativo oppure alt text nel caso in cui appunto ce l'aveste in inglese ed è possibile aggiungere un testo ad esempio adesso per esempio un frullato di frutta probabilmente all'ananas in questo modo quando lo screen reader screen reader leggerà questa slide leggerà anche il testo dell'immagine quindi l'immagine questi sono i due diciamo principali diciamo accorgimenti che dobbiamo avere nelle slide ce ne sono tantissimi altri uno ad esempio è l'ordine delle slide l'ordine in realtà del contenuto delle slide perché lo screen reader non può leggere prima il nome del relatore e poi il titolo della presentazione e poi l'immagine deve avere un ordine un ordine che è dettato dall'ordine in cui vengono create i componenti all'interno della slide oppure un ordine che decidiamo noi però dobbiamo deciderlo sulla base di un razionale questo è uno appunto delle funzionalità di powerpoint ce ne sono altre come per esempio la dettatura adesso ve lo farò vedere in outlook questa è la componente della dettatura e poi volevo farvi vedere velocemente in powerpoint una bellissima funzionalità ovvero la possibilità da parte di powerpoint di proporci delle slide un design alternativo delle nostre slide questo non deve essere preso come semplicemente abbellire la presentazione abbellire le slide ma lui ci dà dei consigli su come renderla più accessibile quindi ad esempio tante volte scriviamo tantissime cose nelle slide oppure sono caotiche un testo è più grande un testo è più piccolo non si capisce il motivo per cui il testo è più grande e il testo è più piccolo lui ce le mette in ordine ce le rende esteticamente migliori ma accessibili quindi cambia anche i contrasti cambia i colori del contenuto che viene inserito nelle slide e questo è molto importante quindi non è solo per abbellire le nostre slide ma è anche per renderle più accessibili più comprensibili anche per velocizzare mi viene da dire Bianca per chi ha un utilizzo lento perché comunque gli è richiesto usare più componenti più tasti più bottoni diverse parti della tastiera attraverso queste idee suggerimenti magari riesce a velocizzare anche i processi assolutamente concordo è velocissimo è semplicissimo e appunto ci fa risparmiare anche tanto tempo rendendo delle slide accessibili anche molto carine un altro nostro servizio ovviamente che conoscete tutti è tutta la parte di Word stessa cosa in Word noi possiamo rendere un contenuto Word accessibile sempre attraverso il nostro servizio di verifica accessibilità il verifica accessibilità funziona allo stesso modo in tutti i nostri servizi office quindi Word appunto PowerPoint Excel OneNote Outlook e ci permette di fare diciamo lo stesso lavoro quindi ad esempio sui testi che non hanno un contrasto forte lui ci dice guarda che il contrasto è difficile da leggere quindi modifica il colore e direttamente dal widget che si apre con il servizio Accessibility Checker ci permette direttamente di cambiare il colore e poi ci dice anche quando manca il testo alternativo in un'immagine in questo caso abbiamo il logo di Microsoft non abbiamo una descrizione quindi lo aggiungiamo ci sono a volte Bianca dei modi di avere delle descrizioni automatiche o devono essere comunque imputate sempre manualmente esattamente in questo caso appunto possiamo anche dare la possibilità a PowerPoint o Outlook oppure a Word di proporci una descrizione in automatico tante volte è diciamo più accurata tante volte meno adesso aspettate un secondo non c'è un'immagine descrittiva esatto forse in questo caso per esempio non riesce a riconoscere bene il logo di Microsoft però in ogni caso è possibile far generare automaticamente una descrizione ai servizi perché questo è utile un po' come dicevi tu prima soprattutto quando poi devi rivedere slide che non sono stati pensati o documenti che non sono stati pensati per essere accessibili vuol dire imputare a mano tutte le descrizioni concordo bisogna scegliere anche cosa magari catalogarli come decorative perché molto spesso le immagini servono anche per quello esatto tante volte in PowerPoint funzionali alla comprensione del contenuto esatto perché un feedback scusami Bianca un feedback che ho avuto molte volte da persone che usano screen leader è che a volte sono anche troppo descrittive molti contenuti cioè paradossalmente un applicativo che descrive troppo fa perdere molto tempo quindi bisogna scegliere anche cosa rendere descrittiva cosa no poi c'è stata tanta evoluzione anche negli anni per cui adesso c'è una capacità anche di leggere anche l'immagine in maniera automatica quindi mi auguro che andando avanti sia sempre più più agevolato anche il lavoro di chi produce contenuti assolutamente si concordo adesso in questo caso vedete che facendoglielo diciamo creare automaticamente da PowerPoint che contiene cibo pianta e fresco ovviamente poi definisce il fatto che appunto è stata generata automaticamente in modo tale da fare diciamo un disclaimer un'altra cosa che vorrei farvi vedere è la parte di Outlook diciamo che il servizio che noi utilizziamo di più tutti i giorni in assoluto perché le email sono sempre parte di tutto il nostro lavoro e all'interno appunto di Outlook oltre che a utilizzare sempre il verifica accessibilità che abbiamo già visto in PowerPoint e in Word è possibile anche dettare un testo ok adesso vorrei dettare quello che sto dicendo all'interno della nostra email punto questo è super utilizzato da persone con dislessia persone che hanno difficoltà a digitare credo che questo abbia rivoluzionato la vita anche dei messaggi abituati un po' messaggi vocali esatto messaggistica abbiamo capito anche che ci può essere un modo per poi trascriverli esatto molto di più questo esatto dei messaggi vocali esatto quindi e poi riconosce anche la punteggiatura io ho detto punto ho messo il punto punto esclamativo punto di domanda oppure a capo e permette di andare automaticamente a capo quindi molto interessante anche questa parte ora vi vorrei far vedere il servizio che citava anche G prima quindi l'immersive reader diciamo che traducendolo in italiano potrebbe essere tradotto come lettura immersiva ma per esempio la regione Emilia Romagna su cui abbiamo fatto un bellissimo progetto in cui abbiamo introdotto proprio il servizio di lettura immersiva all'interno del loro sito web l'ha cognato in lettura facilitata che secondo me è proprio una descrizione perfetta per questo servizio perché facilita la lettura di testi all'interno di applicazioni sul cellulare applicazioni web o tutti i nostri servizi office noi ce l'abbiamo all'interno di Teams all'interno di Word all'interno di Excel PowerPoint è possibile estrarlo quindi da tutti i servizi di office e integrarlo in applicazioni che possono essere sviluppate personalizzate quindi custom da zero in questo caso è un sito web della regione Emilia Romagna e il servizio è stato inserito all'interno del sito web quindi è importante perché può essere inserito in qualunque applicazione che viene utilizzata dagli utenti sia appunto mobile sia su web sia su desktop però esistono Bianca correggimi esiste un'applicazione mobile che io posso scaricare anche per leggere pezzi di testi stampati o di libri allora è questa funzione che può essere integrata all'interno di applicazioni quindi per esempio noi abbiamo un'applicazione che permette ad esempio di leggere un libro ad esempio digitalmente è possibile introdurre integrare questa funzionalità questa funzionalità ce l'abbiamo appunto come diceva anche Gio prima su Teams su ogni messaggio noi abbiamo la possibilità di leggere il testo in lettura immersiva lettura facilitata e quello che adesso vedremo ve lo faccio vedere direttamente da qui perché risulta poi più diciamo c'è un testo un po' che ci permette di capire come funziona allora la primissima funzionalità è che permette di leggere il testo con l'audio il testo che noi evidenziamo o lo evidenziamo noi oppure lo facciamo leggere tutto il sistema immersive e reader migliora l'accessibilità favorendola è possibile definire anche se la voce che vogliamo è maschio o femmina e la velocità di lettura del testo il testo può essere anche modificato in che termini può essere modificata la dimensione del testo per permettere di diciamo essere letto in maniera più semplificata può si può ridurre oppure aumentare lo spazio tra le parole tra le lettere all'interno del testo è possibile cambiare font questi tre font sono quelli che vengono considerati più accessibili all'interno di word powerpoint e tutti i nostri servizi è possibile cambiare il tema diciamo del testo quindi per aumentare il contrasto a seconda poi della persona cosa preferisce è possibile cambiare il colore può essere cambiato in tantissimi formati per aumentare o diminuire appunto il contrasto e poi ci permette di diciamo modificare o cambiare il grassetto il corsivo se lo vogliamo tutto con diciamo senza grassetto e senza corsivo oppure se vogliamo mantenere il testo originale altre funzionalità sono per esempio il riconoscimento e la visualizzazione delle sillabe quindi per esempio per appunto anche i ragazzi che stanno iniziando a leggere è fondamentale oppure aiuta molto appunto alla lettura perché ci permette di evidenziare appunto le sillabe oppure le diverse parole che ci sono all'interno del testo quindi che siano verbi che siano aggettivi avverbi ci permette di identificarli proprio in questo modo quindi questo bianca funziona anche in italiano sì funziona anche in italiano come vediamo questo testo è in italiano funziona in tantissime lingue compreso ad esempio l'italiano esattamente e possiamo il sistema di riconoscimento dei nomi degli aggettivi delle parti della frase è automatico possiamo inserire anche noi magari delle etichette particolari se dobbiamo mettere in evidenza allora il momento è automatico è il momento è automatico vediamo cosa cosa riusciremo a sviluppare è un aiuto il fatto che si sta imparando l'analisi logica l'analisi grammaticale è sicuramente un supporto assolutamente ed ha la possibilità anche di visualizzare in immagini le parole che noi troviamo all'interno del testo per chi utilizza pittogrammi per chi utilizza la comunicazione aumentativa alternativa questa possibilità è davvero vitale esatto e un'ultima parte è il diciamo il focus su una o più righe per diciamo visualizzare o poter leggere riga per riga e quindi non diciamo farsi influenzare da quello che c'è sopra sotto a destra e sinistra e quindi poter focalizzare la lettura sulla singola riga esatto e in più è possibile anche tradurre l'intero testo o per parola o per intero documento quindi noi possiamo tradurre il testo in tantissime lingue come vediamo in questo caso quindi anche nel caso appunto di corsi di lingua potrebbe essere utile perché si parte da un testo e lo si traduce e si verifica se è corretto oppure no ad esempio sottolineerei Bianca che sono un'agevolazione questi sistemi per gli studenti con bisogni speciali bisogni educativi speciali però dall'altra parte non rappresentano una leva competitiva in più per avere performance migliori in classe per cui assolutamente anche perché poi nell'ambiente classe spesso si vive anche di questo no il fatto ma lui ha la calcolatrice quindi è agevolato a fare i conti no in realtà sono proprio un modo per venire incontro alle necessità di apprendimento diverse e a stabilire dei canali di comunicazione che funzionano meglio per quella persona e non per l'altra esatto quindi assolutamente integrabile ovunque quindi mi raccomando qualunque applicazione abbiate è possibile poi integrare appunto questo servizio che è sia nativamente integrato in tutti i nostri servizi office ma può essere integrato in qualunque sito web l'ultima cosa vai volevo rubarti 30 secondi per rispondere a quello che chiedeva prima Francesca su magari facilitare la lettura a un libro su quale applicativo utilizzare eccetera una cosa che mi piace molto mostrare è far vedere l'applicativo dove nasce appunto la lettura immersiva che è da OneNote su OneNote adesso sicuramente anche sui altri applicativi ben sviluppati adesso c'è già questa funzionalità che dicevi tu Francesca quindi fotografie del libro mentre voi parlavate in frattempo io ho lens funziona lo stesso lens anche lens hanno lo stesso motore esatto però OneNote è più carino perché alla fine ti salva nella stessa pagina n pagine ditemi se riuscite a vedere la condivisione ok faccio andare via un attimo il tutorial se vedete questo è una fotografia di un libro no avete visto prima che in questo caso si abilita la lettura immersiva o il picture to text gli viene già trascritto l'immagine che c'è sulla foto ricordiamo anche che G è che per chi era abituato ai sistemi di traduzione automatica di tanti anni fa o di qualche anno fa erano abbastanza imperfetti mentre oggi davvero su tutte le funzionalità che abbiamo mostrato dai sottotitoli di questa di questo webinar a tutte le altre funzionalità vediamo una traduzione una trascrizione davvero vicina alla realtà Bianca ti lascio ultimare così volevo farvi vedere l'ultima cosa è un progetto open source che noi abbiamo sviluppato come microsoft può essere integrato gratuitamente in qualunque sito web sia su chrome vedete lo schermo giusto adesso sì ok sia su chrome sia su edge su bing e possiamo selezionare accessibility in size se non lo avete lo possiamo installare tramite le estensioni del browser ed è possibile vediamo un attimo mi è venuto il dubbio edge è il vostro browser è il nostro esatto edge è il nostro browser è il motore è il motore sì noi abbiamo quindi questo servizio può essere installato su edge o su chrome quindi di google ed è possibile installarlo in maniera gratuitamente in maniera gratuita ed è possibile ci permette poi alla fine di verificare se un sito è accessibile o no ci permette di eseguire dei check più approfonditi o meno approfonditi su diverse funzionalità quindi per esempio il contrasto di colore oppure se diciamo il sito web come front end è stato sviluppato in maniera accessibile o no ci sono tantissime regole quindi è appunto poi importantissimo quando si crea un sito custom di seguirle queste regole perché non sempre appunto non è neanche così semplice sì lo consiglierei a quelli che sviluppano anche pubblicità online esatto probabilità poi di alcuni contenuti è impossibile anche a seguito dei pop up o finestre che si aprono si chiudono esatto infatti per esempio in questo caso accessibility insights una cosa molto semplice e rapida per vedere ad esempio se un sito web ha alcune feature di accessibilità che non sono state appunto risolte oppure sì è l'automated checks cosa significa che fa un check veloce automatico del sito web per vedere che cosa è accessibile oppure che cosa non è stato appunto sviluppato in maniera accessibile adesso ci metto un secondo e questo cosa verifica verifica se le immagini hanno l'alternative text quindi il testo alternativo di cui parlavamo prima se i testi sono hanno un contrasto abbastanza elevato oppure altre informazioni come per esempio l'ordine proprio degli oggetti che sono all'interno quindi se i titoli rispettano una gerarchia se le sezioni sono in ordine corretto quindi se non c'è un titolo a sinistra e il testo a destra eccetera eccetera adesso aspettate aggiorno un secondo la pagina e ve lo faccio vedere subito questo appunto è un servizio che può essere è stato sviluppato da Microsoft open source quindi appunto gratuito e può essere installato sui browser ve lo faccio vedere subito anche qua ti dice poi la combinazione di tasti esatto senza mouse esatto per farlo direttamente dalla tastiera esattamente mentre mentre carica intanto volevo ricordare un attimo che oggi abbiamo parlato principalmente di software no? però Microsoft ha sviluppato anche delle soluzioni di hardware penso a pulsanti bottoni o lo stesso adaptive controller per per il gaming poi magari lo riprendiamo anche dopo questo argomento qua però mi sembra interessante far conoscere alle persone quanto l'inclusive design sia parte proprio dello sviluppo prodotti e processi all'interno di Microsoft concordo appunto pienamente dopo l'adaptive controller che abbiamo sviluppato per diciamo come sostituto oppure alternativa al joystick che noi conosciamo appunto conosciamo tutti che ha i tasti molto ravvicinati molto complicato anche da utilizzare abbiamo sviluppato appunto l'adaptive controller che ci permette di aggiungere diversi bottoni diverse funzionalità proprio all'interno come un joystick inclusivo per giocare ai diversi giochi nell'Xbox ho qualche ritardo sul scusatemi intanto allora magari racconto questo è su un po' il mondo dell'hardware perché poi la cosa carina della dati controller è che ha una funzionalità che chiamano anche copilot quindi non è solo il joystick una persona ce l'ha in mano e fa tutto ma rende inclusivo anche il gioco con altre persone quindi posso usare sia il joystick che l'adaptive controller la tastiera quindi ho tanti input e posso far giocare anche più persone alla volta perché poi dipende anche dalla complicità dei giochi in questo caso non vedo come vengono sviluppati i giochi ma molto spesso i giochi hanno combinazioni di tasti come dicevamo prima per le sticky keys abbastanza complicate tante combinazioni magari difficili da raggiungere deve avere una mano in una certa dimensione sì mi è da dire che viene premiata la velocità come succede anche negli ambienti di apprendimento nel gaming più sei veloce più sei in grado di performare meglio quindi il fatto di avere un copilota per me non solo inclusivo ma è un qualcosa per giocare godere si va al di là dell'inclusività esatto diciamo poi la cosa la cosa interessante poi giusto due flash su due prodotti è che poi noi abbiamo fatto anche un sistema anzi più che sistema abbiamo ridisegnato anche tutta la parte di packaging in modo che siano a parte sostenibili anche facili da aprire magari con una mano senza fare operazioni molto complesse eccetera esatto esatto facciamo la demo di prodotto facciamo l'unboxing l'unboxing guarda me che è proprio chiuso adesso c'è la professione però oggettivamente sì penso anche ai nostri utenti che tutto ciò che sono le modalità di easy opening con una mano sola davvero ti fanno godere al meglio l'esperienza già dall'inizio ecco sì magari vi mostro velocemente un video dell'unboxing eccolo è lui eccolo qua è lo stesso che hai tu sì sì è lui guarda c'ho proprio anche l'etichetta ah perfetto aspetta che la apro su youtube e vi condivido da youtube tolgo anche l'audio giusto 30 secondi di unboxing vediamo appena carica eccolo qua ricordiamo che al di là appunto del sistema di gaming vostro che è xbox questo tipo di controller poi si interfaccia anche con gli altri sistemi di gioco allora questa è una ricerca che abbiamo fatto in realtà gli xb days di qualche settimana fa appunto perché ci hanno fatto questa domanda allora nativamente no perché non dipende da noi nel senso che sono gli altri produttori che devono supportare questo tipo di dispositivi però ho visto in giro che a livello di community ci sono tante start up aziende che hanno sviluppato dei switch quindi che permette di quindi adattatori che permette di far utilizzare l'adattatore di controller anche su altre console vero per me c'è il vantaggio dell'adattatore di controller che c'è tante porte tante cose su cui attaccare pulsanti bottoni o o altro eh sì allora giusto due cose legate al mondo l'hardware più legato diciamo al pc quindi più al business e più all'ambito scolastico qualche mese fa abbiamo rilasciato il kit di adaptive adapt kit appunto di per il mondo pc che sono dei sticker tattili da attaccare sui dispositivi per indicare magari tassi particolari ingressi ok uscite varie quindi usb il caricatore webcam no quindi elementi quindi attacco dove voglio per avere un tocco migliore il nostro sito istitutivo io suggerirei il verso dell'usb esatto attaccare sopra o sotto cosa interessante poi l'ultima cosa all'ability summit 3-4 settimane fa 3 settimane fa abbiamo annunciato l'uscita dell'adaptive l'equivalente dell'adaptive controller per i pc quindi è una serie di hub di mouse modulari bottoni eccetera per utilizzare in maniera più semplice anche i pc quindi il mouse magari anche modulari con due pezzi quindi il bottone dei click da una parte e il movimento in diversi formati dall'altra con la possibilità eventualmente di stamparli in 3D gli oggetti in maniera totalmente custom perché poi alcune disabilità sono anche abbastanza uniche per ogni persona visto i costi molto ridotti delle stampante 3D ormai è molto molto accessibile da questo punto di vista poi questa logica anche di personalizzazione cosa che prima veniva fatta magari dalle ausilioteche o altri enti sul territorio che facevano questo il fatto adesso di avere delle indicazioni su come stampare questi accessori mi sembra molto vicino molto interessante esatto poi c'è tutta la parte per più la tastiera in questo caso quindi in pratica l'equivalente della tablet controller xbox quindi un hub e poi c'è tacchi tramite jack 3.5 i vari bottoni penso che adesso non ho ancora provato in prima persona che tutti i dispositivi esterni per la tablet controller siano supportati anche per questa tipologia di hub visto che l'ingresso alla fine è lo stesso sì hai fatto bene Gia a ricordare anche l'Ability Summit che è questo evento che si tiene in Microsoft Headquarter una volta all'anno dove però i contenuti sono assolutamente disponibili a tutti di queste presentazioni quindi anche qui sul canale YouTube sono reperibili lascerei chiudere a Bianca che sappiamo aveva anche un tema di orario quindi sì purtroppo il mio sito web non so se Gia riesci a condividere poi lo racconto io sul Corriere della Sera ad esempio appunto per mostrarvi perché purtroppo ho il sito web bloccato fatemi un secondo allora grazie ce lo puoi raccontare anche sì assolutamente no appunto come vi dicevo l'Accessibility Insights permette di riconoscere cosa è accessibile cosa no in un sito web che può essere un qualunque sito web un sito web pubblico oppure un sito web che state sviluppando lo pubblicate internamente ed è possibile lo condivido ora perché mi si è ci sono quindi ci dà indicazione anche se siamo noi gli sviluppatori esattamente ci aiuta in quella funzione che invece dovrebbe essere anche un obbligo di legge no ditemi anche voi su questo qual è la la norma di riferimento allora sì assolutamente per esempio per la pubblica amministrazione adesso è obbligatorio ovviamente avere il sito web accessibile sia siti web pubblici quindi della regione dei comuni e di altre appunto aziende pubbliche però anche tutte le le applicazioni che sono esposte che vengono utilizzate dagli utenti quindi da cittadini o pazienti in caso di sanità in questo caso ad esempio noi vediamo che per esempio per tutti i testi in azzurro su bianco il contrasto non è appunto rispettato quindi in questo caso noi vediamo che il contrasto non è rispettato e quindi dobbiamo ovviamente risolverlo le informazioni cita bianca lì come riferimento che cosa cita come riferimento che cosa cita esatto cita le linee guida WCAG che poi potete trovare anche leggendo appunto cliccando sul link che definiscono dei diverse diciamo delle linee guida per rendere i contenuti accessibili su diversi livelli di restrizioni quindi appunto vengono chiamate A, W, A o AAA e a seconda appunto della restrizione vengono definite delle regole secondo cui creare un contenuto più accessibile oppure meno accessibile quindi in questo caso abbiamo il riferimento proprio alla linea guida che possiamo cliccare ok beh direi che abbiamo fatto una carrellata di tutto l'unica cosa che mi viene in mente che forse non abbiamo toccato penso a Skype ma in realtà credo che appunto tutto quello che abbiamo detto per Teams forse vale vale anche per Skype e LinkedIn che è un po' parte della vostra famiglia ma non so su questo se volete giusto dirmi due parole in chiusura allora diciamo che Skype fa parte diciamo della famiglia famiglia di Teams poi diciamo che a livello di prodotto insieme a Windows 11 è uscito anche Teams Personal Teams Consumer quindi diciamo l'equivalente esatta diciamo è quella però ovviamente essendo un prodotto nostro Skype assolutamente rispetta un po' tutte le tutte le normative anche interne legate al mondo dell'accessibilità poi hanno in realtà il back end quindi i sistemi dietro sul cloud in comune con Teams per cui a livello di servizi sono abbastanza similari lo sfondo sfocato usa lo stesso motore di Teams così anche tutta la parte dei sottori di trattura mentre per la parte LinkedIn ovviamente anche LinkedIn hanno tutta la parte di accessibilità sono state introdotte alcune anche alcune funzionalità di accessibilità abbastanza interessanti ad esempio anche la pronuncia dei nomi delle persone non è sempre semplice ad esempio come anche il mio non è proprio semplicissimo per cui sono funzionalità molto interessanti e la cosa carina è che poi LinkedIn da questo punto di vista può essere anche un bel veicolo di diciamo di far fruire contenuti più accessibili ad esempio su LinkedIn ci sono diversi corsi su parte di LinkedIn learning legate all'accessibilità e le aziende o anche le scuole che magari adottano delle funzionalità delle app legate al Teams mi viene in mente Viva Learning che è un applicativo legato a Teams fornisce anche corsi partire dal LinkedIn learning all'interno di Teams quindi c'è ci sono intersezioni e nel mondo scolastico LinkedIn è il motore di una funzionalità che è il career coach solo per ambienti education quindi aiuta i studenti a a guardare avanti no di vedere già il mondo lavorativo e LinkedIn suggerisce già tramite dei vari motori delle funzionalità legate ai corsi anche professionali più legati al business al di fuori dell'ambito un po' scolastico in questo caso questa è una funzionalità soprattutto per le università mi sembra di aver letto di recente che permette anche la definizione all'interno delle parole che poi caratterizzano il profilo in prima battuta l'indicazione anche di disturbi apprendimento come la la dislessia no e che secondo me lavora anche in quella logica di abbattere lo stigma ma valorizzare anzi le peculiarità di ognuno e quindi le diversità anche nel nel mondo del lavoro no quando fino a poco tempo fa si tendeva a a nasconderle quasi a nascondere e dove invece adesso è un volere aggiunto sì un motivo di orgoglio ma bene io direi che oggi abbiamo toccato un po' di tutto per cui io vi ringrazio assolutamente per la vostra disponibilità se poi ci volete passare link o altre cose che possiamo diffondere e distribuire lo facciamo volentieri in modo appunto di rendere questo tipo di conoscenza il più accessibile possibile e a presto alla prossima a presto ciao ciao ciao